La settima di ritorno in Serie B fa registrare la quarta vittoria consecutiva dell'Allianz San Severo che supera senza patemi Remini di 20 al Palafalcone Borsellino. Si libera di Pescara, sconfitto in casa da Montegranaro e resta da sola al terzo posto. Ottimo tra gli uomini di Piero Coen, Ciri Beni, 22 punti con il 67% da 3, il 100% a cronometro fermo, Torresi, 16 punti, 60% da oltre l'arco e Losi, 15 punti, 7 assist e 67% da 3. Ora la Serie B si ferma per le finalette di Coppa Italia alla ripresa. I gialloneri affronteranno Isernia. In Cisilver la notizia era sconfitta dopo 23 vittorie consecutive dell'Udas Castellano Cerignola che cade a Francavilla di 2,664 ma resta saldamente in testa. Manfredoni invece vince nettamente il derby con Foggia. La Tama mette forte le mani sui playoff per i quali resta comunque in corsa anche la Diamond. Infine successo di 30 dell'Olimpica Cerignola in casa con Altamura e pesante cappò di Vieste a Martina Franca.